Ma, ma è veramente incredibile, è veramente furtissima, guarda qua, ehm, mi fa ritornare la vita al massimo, wow, che figata ragazzi, contro questi qua magari no perché esplodono Codice Calpis ai negozi oggetti per supportarmi al massimo, mi raccomando ragazzi, KALPYS, stanno uscendo un sacco di skin strabelle nel negozio oggetti, come questo bellissimo bundle qui Il bundle, il pacchetto in carichi deriva, funerea, veramente troppo troppo figo, vi da 2.000 vivac e più questa skin, praticamente regalata Eccoci qua in partita ragazzi, nuovo aggiornamento di Halloween, per chi non lo sapesse vi dico tutto quello che hanno aggiunto, hanno aggiunto una nuova città alla convergenza signori Cioè si chiama proprio la convergenza, adesso hanno tipo chiuso tutto il buco e c'è una nuova città labirinto dove potremmo fare anche un bellissimo nascondino super figo Fatemi sapere se volete partecipare e se volete vederlo sul canale un nascondino in questa nuova città Poi hanno aggiunto i dolcetti, quindi tipo ti danno un sacco di poteri, ti danno la vita Hanno aggiunto la scopa mitica che ti fa volare e in più hanno aggiunto questa nuova arma, anzi hanno aggiunto anche il lancialloween Quindi adesso è più facile trovare il lanciaraggio sotto forma di allancialloween E l'arma forte, quella che proveremo oggi, Bragone nazionale Che è praticamente, dillo tu se lo sai, dillo tu Non ne ho minimamente idea, cagli, sono appena aperta L'ho appena trovata, si chiama falce viceverso È una falce normalissima diciamo È una spada, è praticamente una spada, è solo che al posto di essere una spada è una falce per l'appunto Perché se no si chiamerebbe spada e non falce E regà, praticamente questa falce può diventare mitica grazie ai potenziamenti del cubo Quindi è grazie alle parti del mostro Oh, occhio Bragone, occhio, occhio, occhio Lo distruggo eh Oh, l'ho ucciso Ok, a posto Let's go, let's go No, calpi, calpi, c'è il suo amico Arrivo, 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 Bragone, non morire Eh vabbè Ma qua c'è altra gente C'è un altro tizio L'ho distrutto L'ho disintegrato questo tizio Aspetta che l'ho ucciso sicuro E one shot Eh, muori Tifoso No, ho finito tutti i colpi Ma, mi ha attirato, mi ha attirato un muro No, vabbè, ma te sei scarsissimo C'è sei scandaloso, Bragone Sei scandaloso Gente qui davanti Oh, distrutto Distruttissimo Mamma mia Occhio che c'è altra gente Hai ucciso? Sì, sì, questo qua l'ho ucciso Il problema è che questo tizio Ok, ho trovato la nuova arma mitica La scopa da strega Ok, uccidi subito gli zombie Veloci, 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 veloci Uccidiamo tutti Cura per ogni eliminazione, Braga Quindi ogni kill che fai Ti dà delle cure Ti dà Cioè Però contro tutti gli altri È una figata assurda Altre persone, Bragone Ho ucciso uno Ucciderli Bravissimo, Calpi Che dovrebbe essere qua dentro, eh Non so se... Si è volato Si è uscito ora, 50 li ho tolto Bravissimo Let's go Morti Todos Tutis E il vampo ovviamente Me lo rubi Perché sei una persona orribile Comunque Dai, ci stanno Tiieni, tieni Sono gentile Siamo ad Halloween Si avvicina verso Natale Quindi son gentile, Calpi Eh, ok L'Halloween Diciamo che è il contrario Della gentilezza Ma Te sei sempre sul pezzo, Braga Complimenti C'è una bambina Braga, c'è una bambina Cos'è? Ma come una bambina? Era spavolata una bambina Molto Halloweenesca, eh Ma cosa vuol dire una bambina? Ma era una bambina zombie Tipo Cioè Non era una vera bambina Grazie a Dio Però Era una bambina Molto bruttina, ecco Intanto ragazzi Vi mostro Tutti gli attacchi Di questa bellissima falce Allora C'è l'attacco di base Che è questo qui Che la falce Fa 50 di danno E fa il zoom 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 Quindi comunque Se becchi i nemici da vicino Rega, gli spacchi Veramente l'inguncio Poi abbiamo L'attacco In questo qui Che è tipo Salti e fa il Il babam Veramente figo Mi sa che c'è neppure un'altra Ecco questo qui Che non penso Che sia troppo utile E poi c'è questo qui Che è tipo uno scatto Che fai verso i nemici Ma Pure questo Penso sia abbastanza inutile Perché mentre tu scatti Mi sa che il tizio Ti ha bombardato Con le armi Quindi Forse Uno degli unici attacchi E quando sei vicino All'emico Inizia a fare Bam, bam, bam E forse lì Può essere utile Per uccidere i nemici Brava gente Gente, gente No c'è pure una bambina zombie dietro Eh ma vedi che queste bambine zombie Sono veramente incredibili Oh Calpi Allo spaz Calpi Occhio Occhio eh Eccolo qui Eccolo qui La bambina zombie E lei Ho distrutto questo Ok Aspetta un attimo Eccolo lì Te lo giuro E ho capito Ma Eh no Non più Mi sa eh Aspetta che faccio una cosa incredibile No No Non è stata una bellissima idea Sta scappando Sta scappando Insegui 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 Riesco 45 white Mamma mia Lo vado addosso eh Lo vado addosso Uno Due Tre E lo uccido così Con la falce E mi sono pure curato Figata Figata ragazzi Vabbè adesso c'ho lo spasso Ma sta falce è veramente forte In certe situazioni Lo sai perché Fa un botto di danno Aspetta Ok Vieni qui davanti Se riesci Arriva arriva Sto provando Oh ho atterrato uno Ok Questa è la mia incredibile Andiamo con le scopre Bravissima Aspetta via In seguito Sta prendendo la scopra Pure lui No 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 Fermati Mania Ha sbagliato termine L'ho ucciso E va bene Ma è fortissima È forte Però mi ha tirato Una bella stengata Questo tizio Ma la cosa OP Che dopo ti cura Oddio c'è alta gente Sì sì Allora C'è sì C'è gente che bambina Tieni ti aiuta Pure le bambine No Eh sì sì No Il mio peggiorito Cosa serve Di queste bambine zombie Ma non lo so Ma io non le ho ancora viste Fuori dalle cose C'è tipo qua Aspetta che lo uccido No non sono riuscito Ad ucciderlo Cavolo Aspetta che ci provo Quell'attacco figo Ci provo Quell'attacco No No Perché sono sicura No no Non riesco Non riesco Ah io ho preso Pure danno da caduta Sono un pirla Arrivano in due Arrivano in due Occhio Ho visto Sì sì Occhio Occhio Che sono belli tosti Quei qua Prova a fargli L'assalto incredibile Li faccio L'assalto incredibile No Aiuto Vado di falce Ok sono con te Sono con te Braga Occhio Sali Eccola Quello lì No E vabbè No l'assalto incredibile Non ha funzionato Non ha funzionato Marturo Bravissimo Vai raga Curati Curati Mi sa che è andata molto male Eh no Non fa niente Non fa niente Prendi la scheda Ce la facciamo A vincere la partita Ragazzi Mi sa che l'attacco incredibile Non era la buona idea La falce devo prenderla Prendi prendi Non mi fa prendere la falce Si muova Si muova Falcia Falci Un attimo Falci e corra Bravo Reboot Reboot Guarda in safe Apri la mappa Mamma mia Ma c'è gente Calpi Sei morto Non sono morto Non sono morto Non sono morto Corri 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 Vola Vola Devi essere un uccello Devi essere un uccellino Fai più 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 Brazo Se l'hai fatta Se l'hai fatta Gente braga Occhio eh Allora ho una tattica Ho una tattica Praticamente Li voglio Full boxare Così dopo Ho la spada La falce incredibile Sembrano un po' forti Però questi E te lo dico Calpi Eh dico Dico che può essere un problema Più che altro Io ho il charge Non sono capace usarlo Calpi aiuto Sono da me Intratanti Arrivo Sono in due Non è che sono stratanti Sono tanti Comunque Ok ci sono Pum Giante vola Laser 35 Distrutta Morto 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 Let's go Allora qua sotto c'è altra gente Dobbiamo pushare questi qua sotto Braga Aspetta Provo A rubargli le cose Dove Atterri Incredibile C'è quindi ti da doppia vita Sono sì sì Immaginati in arena Quando ti da pure il 50 HP C'è l'altro Altro che arena Dove dove L'allama Hai pochissima vita Braga Pochissima Si non hai cure Tene No no Ah sì In realtà C'è un altro Dei minuto Ti Ah dammi 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 Tieni Tieni tutto Tieni tutto Vado a pushare Questo tizio E che mi sembra molto scarso Che vi faccio L'acquato Ho sbagliato Sì ho sbagliato Un po' le distanze Ragazzi non pensavo Ok io arrivo di scopa Calpi Semilasero Sono morto Oh ma sta andando al loot Sparagli Aspetta Ho un'idea Un'idea Vado di Incredibile Assaltone Gigante Ho preso il muro Vieni 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 Eh no ragazzi Però se si mettono i muri Io non posso ucciderli Quindi qua Full boxato Full boxato Arrivo 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 Vai Pium Pam Sparapum Pam Fa 30 HP Di danno Ti cura di 30 Incredibile questa cosa Regà Cioè non è forte Ma è forte Cioè in certe situazioni è proprio forte Però in altre diciamo non troppo utile Potrei usare Cioè un pompa E farei la stessa cosa Però è molto più divertente Che utilizzare un pompa Questo c'è da dirlo Ragà Tattica Abbiamo i muri indistruttibili Full boxiamone uno Eh no c'ha la scopa Eh niente scappa con la scopa No no Questo con la scopa E' un gioco che sta facendo 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 Davvero Uccidiamo questo Vieni qui vieni qui Che poi gli altri si uccidono Papampa Ok mi ha spaccato Mi ha distrutto Mi ha proprio veramente Spaccato in due In metà Va a salire Boom Ok Dove è E' sopra mi sa la mia testa Vai Aspetta Provo quella mega tattica E' Vroom 105 Non è funzionato Eh no Questo qua Me lo devo uccidere Quello spasso Eh sì Questo per lì sopra Cosa facciamo calpi Eh ma non li Ah eccoli Faccia cadere No 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 Saliamo 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 È come non abbiamo materiali Ma come no io non botto È inocento Allora ti seguo Sì seguimi Faccio io una scala gigante Forse non riesci troppo a seguirmi Ma sì sì ce la fai ce la fai Andiamo qua sopra E dopo li trolliamo magari No aspetta Eccoli lì Più più Anzi no facciamo di cadere Ma no Va bene Sì 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 Mi hanno Eh tanto hanno le scope vedi Ma no Beh ma mica Ma hanno quittato Ma no sì sono tipo lanciati con lanciato Boh Ma non ha senso Ok va bene Gigi Sì 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 sì